Ok, dovremmo esserci in teoria. Siamo live? Sì, siamo live, ti vedono. C'è quel bastardo di Simone che è in live, quindi la maggior parte della gente sarà per adesso la seguire. Lui che stava tirando delle martellate al... Gli si era bloccata la piastra del cavalletto dentro e non veniva via, allora la stava martellando. Con il martello? Sì, sì, pazzesco. Tutto va bene per provare a toglierla. Te come va, Vez? Bene, dai, bene, bene, poi ultimamente bene. Ho la fortuna comunque che ho il giardino, quindi in quei giorni qua di quarantena si sta bene con un po' di sole, quindi diciamo che non mi lamento, non oso lamentarmi. Te? Eh, lascia stare, io vivo di lotta contro me stesso mentre provo da anni che provo ad avere una routine che sia quella tutti i giorni, ma è difficile. Per me è tanto difficile. La tengo, riesco a tenerla tipo 3-4 giorni e poi mollo, oppure sì, succede qualcosa per cui divento non produttivo per un po'. Comunque ciao a tutti gli spettatori che ci stanno raggiungendo, siamo già in 11. Quando metto pre-live è difficile che arrivi qualcuno, ma poi arriva un sacco di gente. Comunque sia. E in questi giorni sto cercando di disegnare un po' di scene, alcune non si possono far vedere, cioè la maggior parte non si possono far vedere, però cerco di disegnare tipo i mood e i cosi. Vabbè ci sta, è un po' come tipo storyboard. Esatto. Una roba del genere. Esatto, ci sta. Esatto. Per poi avere almeno dei punti di partenza per quanto riguarda gli shooting, quindi almeno quello. Fotonerl invece? È una cosa che già facevi comunque, no? Mi sembra di ricordare. Avevo cominciato, sì, sì, lo facevo, però ero scostante. Vabbè ci sta comunque, penso che posso servire tanto prima di andare a fare un servizio, perché hai già in testa l'idea più o meno di come anche fare l'inquadratura. Sì, sì, più che in testa è già lì, capito? Posso farglielo vedere e non è una cosa del tipo ti faccio vedere la foto di qualcun altro e ti faccio vedere che la stiamo copiando. Vabbè, sì, vero. Sì, sì. E poi cos'è che c'era? Ah, sì, il punto è che poi io mi scordo delle idee. Perché va bene scriversi tipo ragazza vicino al lavandino con mano sullo specchio e sguardo intenso. Che vuol dire tutto e non vuol dire nulla a livello di come l'hai immaginato. Quindi io mi sono ritrovato un'idea di due anni fa e l'ho ridisegnata perché l'avevo disegnata da schifo, però perché l'avevo disegnata anche da schifo me la sono ricordato. Dunque c'è Claudia, ciao Ale, ciao Mark Rob 17, buongiorno a tutti. Ste, Fob, ti giudicezz. Ciao a tutti, vi leggo in chat. E quindi mi sono ricordato di questa idea qui proprio perché l'avevo disegnata. Male, 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 però c'era e non era ambigua da capire, c'era proprio tutto. Ci sta, poi adesso l'hai replicata meglio, magari la riesci a riportare anche poi successivamente, quindi poi vabbè più sei bravo a disegnare più se lo fai vedere al soggetto capisce, no? Perché vabbè è ovvio, se prendi me non so disegnare, faccio gli omini stilizzati, non si capisce niente. E io ho fatto anche, ho provato a mettere in posa in quella maniera lì la ragazza per vedere che difficoltà c'era. Tipo c'era una posa in cui io l'avevo disegnata in un modo, ma fisicamente quella posa non era possibile. Cioè magari era tipo così, ma fisicamente... Non era fattibile. No, doveva tipo alzare una spalla per far passare la mano eccetera eccetera. Man in black. Che cos'è? Man in black style. Non era fattibile, hai capito? E allora tu vai magari nello shooting con questa idea qua del... No, no, la foto è fattibile, prova a fare così, prova a fare cos'ha e non viene. Molto probabilmente perché quella posa lì non è anatomicamente fattibile. Vabbè dipende, se trovi tipo quello là che era andato a Italians Got Talent e anche ad altri talent stranieri, non so se l'hai mai visto quello tutto snodato. Niente. Se trovi quello là riesce a farlo di sicuro. Può essere dai. Se li crescono le tette lo scatto. Non su Twitch però, eh. Non su Twitch, mi dissocio. Dalle tette. Bannatissimo. Comunque ragazzi voi sentite bene com'è l'audio, com'è tutto quanto. Fateci sapere magari in chat se sentite bene. Allora intanto io non ho mai fatto presentare nessuno in chat, cioè in live. e non so perché, perché presumo che tutti conoscano chi mi segue, invece non è sempre vero. Quindi se hai voglia, presentati pure Mr. Luca. Allora, guarda, mi sono preparato una presentazione di quelle proprio top of the top. Allora, praticamente, nel tempo libero mi piace fotografare. No, non è vero, fotografo adesso tempo pieno, o quasi, perché c'è stata la quarantena, quindi non posso più farlo. A parte questo, sono bergamasco, tifo Juve anche se sono bergamasco, ho 28 anni. Di solito mi ricordano perché sono il fotografo più basso che entra quando c'è da fare qualche evento, quando c'è da andare, non so, in qualunque posto, sono il fotografo più basso che possono incontrare. Quindi sono super riconoscibile. E no, a parte questo. Boh, cosa posso dire? C'ho 28 anni, anche se senza barba non mi danno ancora le sigarette quando vado a comprarle. e poco altro. Buona, è stata bella come presentazione. Genere fotografico preferito, tu? Anzi, quello che fai? Genere fotografico preferito, reportage. Però mi piacciono anche i ritratti in un certo tipo, poi penso che durante la live avremo modo di lucidare su questo aspetto. Esatto, anche perché io, sì, ho visto i ritratti che fai, ho visto, ti seguo da un botto, cioè ne parliamo da un botto di tempo, quindi so i ritratti più o meno che fai. Però, se da un punto di vista magari so la visione bianco e nero e reportagistica che vuoi avere sulle cose, sul ritratto puro, a parte Peter Lindbergh non avevo riferimento su cose cercassi tu a livello proprio... Visivo e... Certo. Esatto. Vabbè, il fotografo che andiamo a affrontare oggi comunque è un pochino... Anche lui mi ha un po' influenzato, ecco, come tipologia. Anche se su certe cose è molto discostante da me, però penso che Peter abbia, non so, è quella cosa... È quella cosa bella. Bella, seria, che ci sta bene, che sa fare più tipologie di ritratti, dando sempre comunque una sua interpretazione, no? E quindi, secondo me, può essere fonte di una discussione molto interessante. Anche per il fatto, comunque, che quando facciamo i ritratti, io e te facciamo due generi di ritratti molto agli antipodi, no? Molto distanti l'uno dall'altro. E questo è bello, perché ci ispiriamo, in questo caso, alla stessa persona, eppure, eppure, eppure... Il risultato è... È diverso, è diverso. Sì, 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 sì. Come altro non potrebbe essere. E Fotonerd? Ti faccio fare un po' di pubblicità a te stesso, guarda qua. Fotonerd? Devo tornare come quando ero fastweb. Allora, Fotonerd è il nuovo portale della fotografia in Italia. No, a parte gli scherzi, no, Fotonerd sta andando bene. Abbiamo fatto dei buoni numeri, dopo due settimane, perché l'abbiamo lanciato il 12, due settimane e mezzo, quello che è. Abbiamo fatto dei buoni numeri come visite costanti al sito. Ovviamente, i primi giorni c'è stato un po' il boom, che ci stava, per forza di cose. Abbiamo già qualche collaborazione con alcuni berend, però non posso spiegare più di tanto, però le cose stanno andando bene. Quindi, da quel lato lì, sono felice. Grazie a Dio che c'è stato lui, perché comunque almeno ho potuto un pochino, diciamo, riempire le mie giornate di quarantena. Che se no, senza fotografare, senza fare niente, sarebbe stata abbastanza tosta. Ok, però anche quarantena, non quarantena... Ah, per chi non sapesse in chat, dato che siamo in 15, ve lo dico, dato che Simone sta monopolizzando l'altra live. Però vi racconto una cosa che ho detto solo nel gruppo Patreon, ma non l'ho detto in generale. L'anno scorso, o all'inizio di quest'anno, adesso non mi ricordo, tu hai mollato il lavoro per fare il fotografo, giusto? Sì. Esatto. Sì, fine anno, dicembre. Ed è stato il motivo che mi ha spinto a fare questo passo, non a mollare il lavoro per diventare il fotografo, ma a dare un ultimatum nel mio lavoro per una questione di cui avevo bisogno e che inseguivo da un sacco di tempo, a livello di orario e a livello di libertà personale. Ero lì che dicevo, dai, prima o poi mi chiameranno per dirmi questa cosa qua, perché lo sanno che ne ho bisogno, che lo sto chiedendo, eccetera. E invece non era mai successo e poi sono arrivato io, guarda Nelbo, ho lasciato il lavoro così almeno adesso la c'è buona, gli rodeva. No, no, devo farlo anch'io, l'ha fatto. Esatto. Il risultato, no. Adesso ti buzz, gli ho detto. Adesso ti buzz, vado al lavoro e gliene dico quattro. Quindi ho detto nel mio lavoro che mi avrei smesso se non fossi riuscito a mantenere un certo rito. Cosa che è stata molto azzardata, perché se penso adesso e alcune cose che sto vivendo sarebbe stato molto azzardato, sarei stato proprio nei guai. Però è andata molto bene, molto bene. Quindi quello che conta è quello, è andata bene. Ogni tanto rischiare o anche avere un pochino quel coraggio, perché magari, soprattutto sul lavoro al giorno d'oggi, c'è sempre un pochino di patemi d'animo, no? Però se riesci ad avere quello slancino in più, tac, lo fai, poi magari le cose van bene, non è detto che vadano sempre bene. Sì, per carità, credo di essere stato bravo anch'io a fare questa cosa qua, a metterla giù anche bene, proprio nei loro confronti. E quindi ce l'ho fatto. Quindi volevo ringraziarlo pubblicamente in live, perché è stato anche un input. Dopo il giro Ritam, che non glielo ho ancora girato, quindi nel caso per una donazione qua siamo sempre ben volenti. Ok, allora passiamo al tuo schermo. Allora, intanto, prima di passare allo schermo, oggi parliamo di Vincent Peters. Vincent Peters è il tizio di cui ho parlato spesso nel canale Telegram, nelle storie, eccetera, perché ho comprato questo libro qui. Lo conoscevo già da prima? Sì, ma non conoscevo un sacco dei suoi lavori. E non sono un ragazzo come Luca, perché Luca si informa veramente, cioè io mi limito a questo, cioè al vedere e a farmi una cultura visiva del fotografo. A Luca piace proprio studiarlo, capire anche che tipo di persona è, eccetera. Io magari aspetto, io magari aspetto il documentario. Ci sta, però quel libro lì mi manca, mi manca il libro lì. Se guardo ogni tanto di qua, scusate, ma ho la chat aperta di qua, almeno riesco a leggere contemporaneamente senza ingombrare lo schermo con cui sto trasmettendo. Sì, aspetta un attimo che diminuisco i volumi. Ok, bella. Uh, Timarca si è abbonato a Twitch Prime, cazzo. Grazie, grazie mille. Team Maker. Grazie. E quindi Luca, importandosi molto anche della storia del fotografo e non solo come me che aspetta il documentario su Netflix, cerca di portare su YouTube anche quella che è un... Ehi, guardate che esiste questo fotografo e questo fotografo non sono solo queste tre o quattro foto che girano sempre, ma è anche questo, questo e quest'altro. Storie o mini biografie in un modo interessante. E prima o poi parleremo di questo perché è una cosa molto controversa, ovvero alla gente piacerebbe vedere sta roba su YouTube da una parte, ma dall'altra parte sono pochi veramente a cagare un format di questo tipo. Quindi c'è questo paradosso dove la gente fa la serie, ah no, ma mi piacerebbe avere un contenuto colto, mi piacerebbe avere un... E poi dopo. Esatto. E poi inizia a guardare l'intrattenimento. Beh sì, penso che comunque sia una cosa figlia dei tempi, cioè non è colpa delle persone. Cioè io penso che comunque siamo sempre cresciuti, no, soprattutto le nostre generazioni, con un modo, soprattutto negli ultimi anni, di vedere le cose. E quindi di interessarsi a certe cose, no? Quindi negli ultimi anni, per esempio, io guardavo sempre un pochino una statistica che era quella che l'Italia, gli italiani, sono una del popolo, una delle nazioni in Europa che legge di meno. Mi sembra che eravamo al penultimo posto, al terzo ultimo posto. Ma questo non è colpa delle persone in sé, è colpa di tutta un'altra serie di cose di cui non voglio addentrarmi perché poi sennò qua si trascende il discorso e si entra in altri discorsi. Però il problema... che da una parte ci sta ed è giusto perché tutti vogliono svagarsi è che secondo me non si riesce a trovare il giusto equilibrio, ecco è questo, tra contenuti meno peso, tra virgolette, proprio anche come fruizione, perché ovviamente un contenuto dove fai una biografia o altre cose sono più pesanti, no, da digerire. Ovvio. E contenuti più leggeri, tra virgolette, che poi comunque sono anche pieni di contenuti gli stessi, in modo diverso. Bisognerebbe trovare, secondo me, un giusto bilanciamento delle cose, però è una cosa molto difficile al giorno d'oggi. dal mio punto di vista. Sì, anche perché la piattaforma ti impone un certo tipo di intrattenimento, anche qui su Twitch. Non sempre puoi fermarti e dare il peso che vuoi alle cose. Sì, anche di ritmo. Sì, esatto, esatto. Quindi, da una parte è anche colpa nostra che stiamo imparando, siamo sulla piattaforma da veramente poco, e quindi anche sapere il modo giusto di portare questo tipo di contenuto è importante. Comunque, passando al fulcro della questione, quindi lui facendo questa serie di video su YouTube dove magari porta dei fotografi famosi, tutto quanto, siamo arrivati a quest'ultimo video che hai fatto su Peter Lindbergh, giusto? Sì. E allora io l'ho visto e ho detto, sai cosa, sarebbe bello, è un format dove scopriamo X fotografo, ed è un format che l'ho trovato molto bello e l'ho voluto proporre in una live, ho detto fai la live con me, conduci tu a livello di sapere sul fotografo, e conoscendo più o meno un fotografo posso magari dare un parere anch'io. E allora siamo giunti a Vincent Peters perché è un fotografo che entrambi ammiriamo e cui stimiamo le foto. In modo un po' sbagliato, perché se dobbiamo dire... Non possiamo far vedere molti dei lavori di Vincent Peters purtroppo, perché ci sono cose che bannerebbero, però nel caso comunque chi volesse può aprire una seconda pagina, guardare il sito mentre ne parliamo. Sì, adesso tra un po' vi metto, le foto che non possiamo far vedere ve le metto in chat, così potete aprire magari la cartella e andare a vederle. Quindi, aspetta un attimo che passo alla visuale dove si vede il tuo schermo. Esatto. Ok, qua sono sulla pagina, la prima, proprio la schermata principale quando si entra nel sito di Vincent, e fino qua tutto bene, non c'è rischio. Però dopo abbiamo selezionato alcune foto che l'ho scaricata e l'ho messa in questa cartella, perché navigare sul suo sito, come ho fatto con Peter Lindbergh, sarebbe un po' problematico da fare in live. Eh, purtroppo... E non possiamo farlo. Non possiamo farlo. Non ce lo tiene. Il punto figo è che... Vincent è uno dei pochi che seguo per il nudo, ma veramente. È uno dei pochi che vedo il nudo e dico... Cioè, non mi piace così tanto neanche Newton, perché tu pensi nudo, pensi o al massimo della deprovazione, pensi a Araki, tipo quello che è, oppure pensi... Che è quello giapponese, il cinese. Sì, sì, il tricerato poi lì. Ah, sì, quello del tricerato così, famosissimo. Oppure pensi a roba trash, oppure pensi a Newton, che è un nudo abbastanza forte, abbastanza alla donna, in potere, eccetera. Esatto, che sei un po' indietro ormai, come immaginario molto retro, rispetto ai tempi nostri. E mentre Vincent ha un po' questo piglio moderno sul nudo femminile, che è l'unico che riesco per adesso ad apprezzare in maniera totale, a livello da dire, cazzo, c'è qualcosa delle sue foto che vorrei per me. Ok, ti lascio spazio. Sì, ma è vero, ho pensato a Vincent Peters, perché penso che riesca a combinare, in un certo qual senso, con i suoi diversi modi di fotografare, che più o meno sono sempre legati dallo stesso filo conduttore, come vedremo, sia comunque in nudo, che a te piace, tu pratichi, fai, e io non faccio, sia comunque anche una visuale un pochino più Lindberghiana, passami il termine, dei ritratti che possono piacere di più a me. Penso che riesca un pochino ad abbinare tante cose lui come fotografo, e quindi penso, anzi sono convinto, che sia molto interessante, perché entrambi avremo cose da dire riguardo a tutta una serie di cose che vedremo. Poi ci devo fare un po' di biografia, Vincent Peters è nato nel 69, ragazzi, quindi abbastanza giovinotto, anche se scatta da tantissimo tempo, non mi chiedete quanti anni abbia, perché non so fare matematica, non so mai, è stato bravo, quindi non chiedetemi un 2020 meno 1969, perché non so buono, ci avrà 50 qualcosa anni, fatelo voi il calcolo. Però, detto questo, scatta da tanti anni, e secondo me è stato anche un pochino, correggimi se sbaglio, Enel, dato che comunque è figlio di un'altra generazione, e usa i social, anche se lo prendiamo Instagram in modo differente da come lo usiamo noi, probabilmente, probabilmente prima di tanti stili che si sono visti, potrebbe, qua non abbiamo la certezza, non so quando le abbia fatte effettivamente, potrebbe comunque essere stato un po' un pioniere di determinati modi di vedere anche i ritratti. Esatto, che la gente non sa nemmeno. Esatto, che poi sono stati replicati. Infatti abbiamo selezionato una cartella, passo la cartella, va bene? Eh vai, fai quello che vuoi. Passo la cartella, attuali ma vecchie, l'ho chiamata. Attuali ma vecchie perché questi ritratti, che beh, allora c'è Emma Watson, presumo che non sono state fatte 20 anni fa, ma negli ultimi periodi, no? Almeno negli ultimi 5 anni. Quelle foto qua le avevo già viste due annetti fa, quindi sono un pochino più vecchie di due anni fa. Diciamo tra i 3 e i 6-7 anni fa, per forza di cose, devono essere state fatte. Però è uno stile che viene preso da molte persone al giorno d'oggi, ne apriamo una, è uno stile che viene preso da molte persone al giorno d'oggi, e viene replicato, e lo vediamo in tantissime forme diverse, colori. Lasciamo stare il fatto del bianconero perché lui è un bianconerista feticcio, cioè molto fissato sul bianconero, tranne quando comunque fa anche lavori a colori per tutti i giornali, gli editoriali che realizza. Però sono tutta una tipologia di immagini che adesso le scorro, sono molto attuali, che si possono trovare tra tantissimi fotografi, no? giochi di luce, giochi con gli specchi, le braccia così sul tavolo, per fare un esempio, il movimento, che poi ci può essere il movimento della fronte, degli occhi, delle labbra, del naso, quello che volete. Questo mi ricorda un po' Joker, però vabbè. È vero, perché c'è quella specie di lacrima lì del pagliaccio, tipo. È vero. Grazie Emanuele Landi per l'abbonamento a Twitch Prime. Ogni tanto ringrazierò la gente. Grazie veramente a te. Anche i giochi di luce come questi sono molto utilizzati, no? Comunque da tantissimi fotografi e ci stanno, sono molto belli da vedere. In salse diverse, colori sempre con le cose lì, bianco e nero, tutto quello che vuoi. Quindi comunque penso che abbia uno stile. Ah beh, anche questa qua. Questa è molto attuale questa. Sì, è praticamente la foto del bicchiere trasposta su un, penso sia una bottiglietta di un profumo senza etichetta. Esatto, sì. Al contrario. Sì, questa è una bottiglietta del profumo vuota. Vuota. Che se la sarà spruzzata tutta, probabilmente, però vabbè. Anche tipo questa la posa, le mani, lo sguardo, la luce che taglia il viso. Penso che queste siano molto attuali. Poi non so, ripeto, non so quando le abbia fatte, effettivamente. Però è un genere che si vede molto spesso, no? E molto spesso trasposto male, dal mio punto di vista. Sì. Dalle persone. Quindi, è per dire, no, sai come si dicono molti fotografi un pochino più, diciamo, old style. Che queste qua sono stupidate da social. Questa tipologia di foto, lo dicono, perché lo dicono. Ok? Vero, vero, vero. Però abbiamo qua un gran fotografo che le fa. E quindi dov'è il problema? Il punto? Farle bene. Cosa dici? Ludo dice, poi Emma ha un'espressività assurda unita alla magia di Vincent e a un binomio ultra vincente. Di questo ne parleremo dopo, perché il fatto che ci sia una persona famosa dà veramente qualcosa alla foto. però analizzando anche solo i giochi di luce, il fatto che utilizzi Bo. In questo caso adesso non ce l'hai lì, però c'è anche tipo la foto di Scarlett Johansson con lo specchio, per dire. ovvero tutti gli specchi tondi che vediamo su Instagram e queste cose qua. Sì, sì. No, ma che magari poi lui ha preso spunto guardandole su Instagram. Adesso non sappiamo quando le abbia fatte, no? Su qualsiasi altro portale. Capito? Questo è per dire che non è vero che certe cose sono delle boiate. Basta solo farle bene. Che poi siano colori in bianco e nero. Cioè, è indifferente quella cosa lì. Bisogna farle in un certo modo, come hai detto tu. E cosa è che tu apprezzi di più di questo tipo di ritrati, Go? Di questa tipologia di ritratti qua. Allora, beh, la composizione... Parlando puramente tecnico, la composizione secondo me è ottima. Mi piace anche che secondo me c'è una forte intimità. In senso, si vede che, lo sai anche tu, secondo me, quando fai un ritratto, ma penso che sia normale, ci deve essere qualcosa con la persona che è davanti e non è un robot. Mettiti lì, fai, ti, ta, ta, ho fatto, sì, bravo, sì, no, mettiti lì, adesso, basta, no, posso fare una segretta, no, 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 devo fare una segretta. Cioè, ci vuole il rapporto con il soggetto, per forza di cose. Sì. E tipo questa, ok, adesso questa qua, poi vabbè che lei è un'attrice e potrebbe anche comunque recitare. Questo, ci parliamo un attimino le mani. Però ci sono altri suoi scatti, molto simili a questi, che non sono con attrici, quindi comunque la capacità interpretativa è per forza di cose minore, che però vedi la stessa sintonia, capito? E poi, dico un'ultima cosa, poi mi piacerebbe sentire il tuo parere, non è detto che una personalità comunque così di spessore rilievo, come può essere lei, ma può essere qualsiasi altra attrice, ok, scelga di realizzare una foto di questo tipo, con te. Cioè, devi anche essere bravo tu a farla entrare nel mood, a entrare in connessione. Cioè, non è che io arrivo lì, posso essere bravo quanto vuoi, guarda facciamo questa foto qua, dove tu piangi, o come quella dopo che abbiamo visto prima, sia un po' anche con il trucco che cola, quelle cose lì, non è detto che accettino, solo perché. E quanto pensi che sia dovuto solo al fatto che sia attrice, oppure famosa, in alcuni scatti? Perché sono scatti semplici comunque. Sì, sono semplicissimi, c'è dietro, penso che non sia neanche un fondale quasi, penso che sia un muro quello che c'è dietro. Beh, qua è un altro muro, nel bianco, penso che sia un muro, non so se è un fondale, onestamente, sono molto semplici, composizione verticale, scatto, centrale, molto molto semplice, classica, canonica. Mani tagliate? Chi se ne frega? Sono quelle che ho trovato, perché se no sul sito è un casino. Ah, ok, ok. Sì, perché se navigavano sul sito venivano bannati, ragazzi. era, è veramente tutto, no, ma facciamo una cosa, testiamo un po' Twitch, e proviamo a far vedere qualche foto di quella, di quell'altra cartella che abbiamo, che abbiamo separato su quelle più sensuali. Proviamo a vedere. Oh no, l'ho cancellata. L'hai cancellata? Sì, per sicurezza, oh no, lascia stare. voglio far pannare il profilo, ci mancherebbe altro, l'ho cancellata. cercherò di farle vedere magari qua dal libro, mentre parli, magari sfoglio qualcosa, vedo se c'è qualcosa, magari facendole vedere da lontano, esatto, potete, potete capire. Allora, a me piace, mi piace il, il modo in cui, è quello che utilizza il bianco e nero, secondo me, in una maniera più, forte, ed espressiva, sia a livello di contrasto, sia a livello di scala di grigi, non è che c'è solo nero e solo bianco, c'è anche un bel grigio in mezzo, che non è, non è quel bianco e nero sbiadito, è un bianco e nero molto, ma molto, molto bello, e secondo me, ho cominciato a vedere e a, non comprendere, ma a dire che sono belle le sue foto, perché ho trovato questa similitudine con me, non solo perché è molto, molto bravo, ma perché ho detto, cavolo, ma lui, cerca quello che cerco anch'io, anzi, anch'io cerco quello che cerca lui, a livello di contrasti, a livello di bianco e nero, eccetera, e, e mi piace molto, e ti dico, sarà che è Emma Watson, sarà che lui è famoso, sarà quel che sarà, ma, eh, ti dico, anche le idee più banali qui, mi, mi ritrovano, non spiazzato dalla banalità, cioè, non, non è come quando entro su Instagram, vedo l'ennesima foto con il bicchiere, e dico, vabbè, grazie al cazzo, capito? Sì, sì, no, penso che sia frutto di tante cose, perché uno potrebbe semplicemente dire, vabbè, quando entri su Instagram, o su qualsiasi altro portale, sono tutte a colori, uno potrebbe dire, quindi, se sono in bianco e nero, sono più belle, non è detto, c'è anche l'utilizzo della luce, cioè, paradossalmente, anche, semplicemente, il fascio di luce qua, dove c'è l'occhio sinistro, come disponi la luce, che poi aiuta a risaltare, staccare maggiormente il soggetto, come disponi la luce, quindi non è solo, magari, il bianco e nero, no, che vabbè, adesso lo ammettiamo da bianconerista, certe volte, il bianco e nero ti fa dire più wow del colore, dipende da tanti fattori, perché è un pochino più particolare, su certi aspetti, però, non è che è il bianco e nero che fa la foto bene, è lui che ha fatto la foto bene, è lui che ha composto bene, ed è il soggetto che è importante, il soggetto importante, come dicevi prima, fa molto della foto, soprattutto se è famoso, ti fa anche mentalmente valutare di più una foto di quello che potrebbe essere, effettivamente. Esatto, anche secondo me, scrivetemi nei commenti, intanto se lo conoscevate, se vi piacciono le sue foto, e cosa vi piace di più, perché fa della roba abbastanza varia, varia ma omogenea, coerente. Gli scatti mi fanno rivalutare il bianco e nero. Vabbè, diciamo la Toscani, nella live di oggi. Che bella, che bella, è stata la cosa più bella della giornata. Va bene. Allora, domandona, secondo te, che differenza c'è tra lui, ma mettiamo lui come un esempio dei fotografi come lui, e quello che può essere un normale fotografo su Instagram, oggi, a parte la disparità di livello fotografico. Allora, è molto difficile da definire questa cosa, perché è figlia dei tempi, in senso, lui c'è da molto più tempo, ed è arrivato a scattare con determinati soggetti, quindi molto probabilmente anche, c'è un'influenza, no? quando tu vedi le sue foto, dici, lui è quello che ha fatto quello che ha fatto, quindi per forza di cose è più bravo, ok? Passami quel modo di dire qua. Mentre quando vedi un altro, dici, bella, ma, ma questo è un processo, diciamo, inconscio, no? Che fa la testa. Perché se tu vedi uno famoso, pensi sempre che è più bravo di un altro, anche se ha fatto quasi la stessa identica foto. Beh. per forza, lo pensi quasi sempre, o comunque gli dai un pochino più di valore allo scatto. Poi, guardando quelle foto qui, secondo me, c'è della bravura, cioè è ineccepibile che ci sia della bravura nella realizzazione degli scatti. Guardando altre foto, molto diverse da queste, che poi andiamo a vedere, secondo me, proprio ha una visione molto particolare, anzi, secondo me è più bravo nelle altre foto che in queste, è molto bravo nel nudo, anche lì ha una visione sua, adesso tu sei un pochino più ferrato di me, non so quanti abbiano una visione come lui del nudo, che è molto sensuale, però elegante, forte, e anche retro, perché sembrano quasi uscite dagli anni 50, alcune immagini. Cioè, c'è un po' un'influenza, infatti lui in un'intervista che aveva fatto, ha detto che è stato molto influenzato dal primo cinema in bianco e nero americano, no? E secondo me questo traspare tanto nelle sue immagini, non tanto in queste, ma in quelle un pochino più cinematografiche che andiamo a vedere fra poco. Però penso che sia proprio questa la differenza, cioè, il fatto che... Ma a livello secondo te di... Allora, secondo me, come ti avevo detto anche in privato, c'è una differenza di coerenza visibile tra quello che tu trovi quando cerchi le sue foto, a livello di comportamento proprio fotografico, che è una cosa su cui sto sperando da tempo di fare... di fare un video, però non sono ancora riuscito a farlo per... per proprio trovare il come comunicarlo, perché i fotografi di oggi fanno alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, mentre quando vedi fotografi di questo calibro qua automaticamente gli attribuisci un valore costante alto. Esatto, esatto, perché questo secondo me è molto importante, perché i scivoloni li fanno tutti, perché non ci credo che nessuno, neanche il supremo signore della fotografia, tutti fanno scivoloni e sbagliano qualcosa. Però forse anche quel discorso che mi facevi tu... Quella... Aspetta, è arrivato un raid di Simone Cioè che ci ha appena portato 49 utenti, quindi... Ciao a tutti. Grazie Simo. Ciao a tutti. O mi sa che devono ancora entrare. Ho perso il filo del discorso. Aspetta che lo recupero, un attimo. Grazie Simone del raid, veramente, grazie mille. Spero che tu sia riuscito a fare il B-roll che ti eri premissato di fare, cavolo. Ho perso il filo del discorso, bellissimo. Stavo dicendo una cosa interessantissima, ho perso il filo del discorso. Cos'è che mi hai chiesto? Che tutti fanno dei scivoloni, anche i fotografi più alti. Ah, ecco. Mi ricollego con una cosa che mi avevi detto tu e che un po' mi hai fatto capire tu sempre. Il fatto che probabilmente loro sbagliano le foto, ma sanno selezionare bene. Che è importantissimo selezionare bene le foto. O no? Più di fare la foto bella. La palla a te perché tu me lo insegnasti. Secondo me, più di fare la foto bella. Perché se tu fai una foto brutta e nessuno la vede, in verità, tu non l'hai fatta quella foto brutta. Per gli altri. L'hai fatta solo per te. È vero. E nessuno l'ha visto. E quindi, se gli altri pensano che magari tu sei un fotografo mediocre, è perché tu fai vedere agli altri che sei un fotografo mediocre. Semplice. Se gli altri pensano che tu sei un fotografo bravo, è perché sei tu a far vedere agli altri che sei un fotografo bravo. Esatto. E quindi è... Se tu hai una metrica bassa quando sei all'inizio e ti reputi nella tua piccola scala ti reputi in alto, man mano che cresce e il tuo metro di paragone cresce, ti posizioni sempre più in basso e sempre più in mezzo alla gente. E quindi ti fa rival... Ecco perché dopo un po' rivalutiamo il nostro percorso fotografico. Quindi, ringrazio ancora Simone Cioia. 81 spettatori mai visto, cioè boom, così da nulla. Grazie Ludotor per essere abbonato a Twitch Prime. Grazie mille. Sì, no, no, è vero. Selezionare è più difficile di scattare. Selezionare bene. Non a caso molti fotografi non selezionano le loro foto ma ci sono dei foto editor che fanno quel lavoro per loro. Esatto. Poi dipende dai testi. Però una cosa che tu mi hai insegnato ma che comunque poi ci si arriva anche con il tempo, perché all'inizio tutti pubblicano, pubblicano, vogliono pubblicare, pubblicare. Una cosa che impari col tempo ed è essenziale imparare è selezionare molto bene gli scatti perché è una cosa fondamentale secondo me in un percorso di crescita innanzitutto è personale non solo interpersonale con i social, con il pubblico in generale. selezionare bene fa la differenza secondo me tra un buon fotografo e un grande fotografo. Sì. E un fotografo iper mega mediocre. È vero. Che ti dico una cosa da influencer innanzitutto prima di cominciare questo discorso vi ringrazio perché state seguendo la live se volete diventare sub, twitch, quals, bla 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 se volete seguire il canale per vedere le prossime live davvero sarebbe una gran gran roba e quindi se volete iscrivervi siete i benvenuti nel canale. Grazie. Quello che volevo dirvi che ho perso il figlio del discorso per dire questa cosa qua io lo perdo più di te hai detto non me lo ricordo prova a pensarci intanto dico a chi si è appena connesso che stiamo confrontando confrontando stiamo parlando di un fotografo Vincent Peters più nella precisione che è un fotografo ritrattista di nudo ritratti moda perché ha fatto tantissimi editoriali ha praticamente lavorato per tutte le grandi case editrici del mondo da voga a ela qualsiasi perché ha degli spunti sia che secondo me sono legati alla fotografia di Nelb che alla mia e sia perché pensiamo che sia molto attuale anche se comunque è un fotografo diciamo navigato ok mettiamola in questo caso qua non me lo so ricordato stavo per dire una perla di quelle di quelle magnifiche cavolo veramente ma è sempre così quando stai per dire una perla succede qualcosa per cui tu cambia dopo ti do i command e si frega allora intanto che ti torni in mente passerei a quelli vuoi passare a parlare del nudo senza farle vedere perché ricordiamo chi sei collegato non possiamo fare vedere le foto di nudo naked ok qualcosa con influencer ok me lo sto ricordando ecco da influencer ho imparato una cosa quando tu comunichi col pubblico e parli e dici una cosa devi essere 100% sicuro che stai dicendo la cosa giusta nel modo giusto perché ci vuole un video anzi ci vuole un contenuto per fare disinformazione ma ce ne vogliono 10-15 per correggere la disinformazione che hai fatto è vero ok stessa cosa vale per la fotografia nel senso che ci vuole una foto di merda per far capire alla gente che non è che sei così bravo come fai vedere di solito e ci vogliono altre foto belle per andare a colmare ovviamente se fai un miliardo di foto belle e hai uno scivolone la gente comunque ti mette in dubbio no ti mette in discussione però è ovvio che non è che crolla il mondo però è ovvio che la gente ti mette in discussione comunque quindi l'autocritica secondo me vale molto ma molto di più che sapere scattare una foto bella perché tu puoi anche scattare mille foto brutte e nessuno le vede ok e tu magari cominci a pubblicare quando hai una coscienza diversa della fotografia e del tuo livello oppure tu puoi essere quello che fin dall'inizio pubblica qualsiasi roba che ha fatto e quindi instauri nella gente quel sentore di ah ok lui è un beginner uno che ha appena cominciato e per provare alla stessa gente che tu sei uno che sa il fatto suo ci impieghi più tempo di magari che uno inizia già con il piede giusto mettiamola così è vero ok poi questo magari questo in un portfoglio per esempio è essenziale essenziale in altri canali non è per forza che devi pubblicare per forza tutte da dieci come voto dieci su dieci puoi pubblicare anche i nove e gli otto magari facendo il carosello per esempio parti con quella top però non ti devi mai abbassare sotto un certo livello qualitativo ed è difficile fare autocritica è molto difficile non solo in fotografia in qualsiasi campo fare autocritica è una delle cose più difficili che ci sia perché non si è mai disposti ad accettare che non si siano fatte le cose bene vero e si vuole sempre andare a usufruire di quello che si è fatto non accettiamo di aver fatto un qualcosa per niente non c'è il libro di Peters in italiano ma in verità scrive così poco sul libro che tanto vale comprarlo in inglese cioè io l'ho fatto solo per le foto sì anche quello che ho io personal è in inglese francese tedesco mi sembra però è proprio tipo due pagine di introduzione vi incordo comunque il link se volete andare a vedere questo libro qui che è quello che ho fatto vedere prima per quanto riguarda il Vincent me lo prendo anche io dal tuo link di Amazon perché quello mi vai pure sulle foto cinematografiche andiamo su quelle cine allora queste sono foto cinematografiche ricollegandoci a quello che avevo detto prima che è stato molto influenzato dal cinema primo cinema americano in bianco e nero secondo me traspare molto in queste immagini allora adesso le faccio scorrere però mi fa ridere i commenti scusate sì anch'io sto dicendo lo so che sono in quarantena e certi mezzi vanno utilizzati non sto dicendo niente di tutto ciò li utilizzo però sul mio computer su qua quelle cose di biricchine lì non so cosa siano ci vuole classe anche in quello esatto ci vuole il premium tra l'altro ci vuole il premium che purtroppo è scaduto però no ma fa niente ti giuro che comunque queste non le avevo viste mi sa che non ci sono qui su secondo me non ci sono perché sono in un altro libro perché qua ci sono più gli scatti più sensuali questi qui sono tutti editoriali per blog per tantissimi lavori diversi sono tutti editoriali tutte campagne pubblicitarie in cui ha impresso comunque secondo me è uno stile molto cinematografico loro che non guardano in camera ma sembrano parte di una scena di un film anche questa è molto cinematografica sembra quasi non so chi ha visto Animali Notturni è un film con Jake Gillegal e sembra un po' una scena di quel film lì no una che sta percorrendo la 66 e si è fermata cioè sono molto cinematografiche e sono tutte parte comunque esatto queste qui ci sono invece sul libro anche questa qua secondo me è molto bella forse no adesso arriviamo a un lavoro anche questo questo diciamo che è un pochino può essere intrapreso tra l'intimo tra mille virgolette molto alla lontana però sempre con uno sguardo diverso no lei che non guarda in camera ma guarda lì come se stesse aspettando qualcuno ci sono tutta una serie proprio di anche questa quasi mi ricordo adesso non so chi sia lei mi ricorda quasi Mary Dean Monroe no fai finta prendi una scena di un suo film che immagina che è andata a prendere il giornale sta percorrendo le strade di visivamente non so mi sembra Parigi probabilmente lui è francese mi sembra Vincent Peters non vorrei dire una cavolata quindi più o meno una cosa del genere no anche questa è per Vogue questa se non sbaglio questa qua che è arrivata adesso questa è per Vogue era per un abito se non sbaglio per il vestito però sembra quasi non esserci il vestito no perché c'ha il libro davanti c'ha la sigaretta che porta via tanto dell'attenzione perché le sigarette in foto portano sempre l'attenzione di sempre quando ci sono sempre e sembra anche questa presa proprio da un film no una scena di un film lei al bar in attesa di qualcuno con la bottiglia di non so che cosa spero che sia vino almeno passa bene il tempo cioè capito mentre questa quest'altra questo è molto particolare questo è un matrimonio che è finito su Vogue Francia questo è un matrimonio che è finito su Vogue Francia e che è rappresentato con uno stile molto cinematografico perché tipo la luce che c'è dietro poi qua è sicuramente una luce artificiale non ci credo che è la luce vera quella che c'è dietro sì quella all'one lì sicuramente artificiale infatti vorrei sapere come cavolo fa a farlo ecco bravo io continuo a sbattere la testa a cercarti di capire se usa flash luce naturale luce continua cioè non riesco a capire bene perché fa quelle robe lì soltanto quando c'è un po' di fumo nell'aria quando l'aria è un po' allora fa quella l'one lì poi abbiamo visto almeno ho guardato anche tipo un paio di documentari di Lindbergh dove Lindbergh per fare un servizio fotografico sembra che si porta dietro la troupe per fare un film cioè c'ha di tutto e di più quindi magari a quei livelli qua c'è anche la macchina del fumo c'hanno i i cosi lì come si chiamano quelli dell'aria i ventilatori che sono grandi come casa mia c'è tutta una serie di cose a certi livelli questa è sempre per per dei vestiti mi sembra con Irina Shai però è un po' onirica sarà il fatto che ha scelto le piastrelle di quel tipo lì mi rimanda un po' Alice nel paese della meraviglia una roba del genere sì ok ho capito ok capito un pochino onirica anche questa secondo me è bellissima questa secondo me è bellissima anche questa campagna pubblicitaria per degli abiti e ha preso due persone cioè sembra proprio una scena di un film è questo proprio quello che voglio dire no riesce a coniugare la cinematografia la cinematografia con la moda ok quindi quando e importare il suo punto di vista in quelle cose qua no quindi secondo me questo è molto interessante sai cosa trovo interessante che lui prende questo punto di vista cinematografico e te lo porta dal ritratto alla campagna e dalla campagna se lo porta nel nudo perché se tu vedi se tu torni indietro magari nella donna quella che dicevi della sigaretta se tu le togli i vestiti è un suo nudo sarebbe un suo nudo perfetto e c'è un filo di coerenza narrativa tra tutti questi tre generi fotografici mettiamolo così che è pazzesca cosa che noi non riusciamo ad avere non è che non riusciamo ad avere è molto difficile perché se tu segui sempre il solito discorso faccio ritratti e faccio guard nudo devo aprire due profili esatto nel suo caso no perché c'è una coerenza visiva molto molto forte che va oltre il bianco e nero diciamolo va oltre il bianco e nero il bianco e nero ovviamente aiuta a livello visivo però va oltre sì io ho selezionato le foto principalmente in bianco e nero anzi mi sa solo in bianco e nero perché lui si è sempre definito un bianconerista tranne quando fai lavori quindi mi sembrava un pochino più giusto mostrare quello in bianco e nero anche nel suo rispetto è bravissimo a colori anche assolutamente anzi forse no no più bravo in bianco e nero però è bravo anche a colore sullo stesso livello però è vero questo sarebbe un suo nudo perfetto per immaginarvi se non lo state guardando un nudo di vincent peters togliete i vestiti da questa immagine è uguale è sempre molto elegante capito è molto cosa che altri non riescono ad essere sono molto plasticosi non saprei come dire comunque provo a far vedere qualche foto io che ce l'ho la cartella aperta vediamo se riesco a farle vedere qua ci bannano tra birichina qua ci bannano proprio vediamo vediamo magari non rischiare magari no se vi bannano il canale ragazzi tutti voi che siete online vi siete iscritti tornate sapete che aprirò un altro canale presto per per questo quindi avevo un'altra domanda da fare ah ecco sai i set suoi sono secondo me una delle differenze che c'è tra un fotografo veramente professionista perché allora io penso così una volta che tu ottieni una mini padronanza della tecnica vai a ricercare quegli elementi nella tua fotografia che possono essere migliorati attrezzature soggetto contesto idea ok l'idea è l'unica cosa che tu puoi migliorare da solo senza l'aiuto di nessuno senza comprare nulla cioè quella appartiene solo a te e non puoi spendere soldi per avere un'idea migliore togliendo l'idea ci sono varie cose che ci separano da un livello così alto di fotografia secondo me sta tra soggetti e location e outfit e mi piace tanto il fatto che molta gente non se ne accorge perché le location sembrano roba normale ma nessuno le sfrutta in questo contesto qua o in questo modo qua anche chi ha delle bellissime location non riesce a farlo esatto e quindi io stavo ragionando anche su questo fatto qua la gente cerca sì la modella migliore perché la ragazza non va bene la macchina migliore perché la la PSC non va bene le vogliono la full frame la Sony la Fuji eccetera e c'è un particolare che spesso la gente non non caga di striscio che è il contesto e se andate a vedere tutte queste foto qui e togliete magari il posto in cui si vede praticamente che è una scena americana togliete ma magari tenete questo contesto qui che è un contesto che potrebbe essere anche italiano questo qui è da mettere nell'equazione secondo me proprio a livello di crescita personale sì ma ma anche la volontà perché adesso vabbè qua avrà avuto alle spalle chiunque però se tu ci pensi un attimino non è così difficile da replicare un'immagine del genere allora ti deve venire l'idea come hai detto tu però faccio un esempio stupido di quando facevo video ci sono tantissimi attori attrici altre tipologie di personaggi che frequentano le scuole che sono disposte o gratuitamente o a pochissimo a mettersi in gioco e fare delle cose del genere quindi uno potrebbe anche andare in un autogrill potrebbe tranquillamente essere un autogrill questo eh prendere prendere cinque persone quasi a costo zero se non a costo zero e farla questa foto eh la potrebbe fare tranquillamente devi avere l'idea e devi programmarti tutto perché comunque non è facile organizzarti con quattro o cinque persone non è facile organizzarti con la location perché poi comunque penso che dovrai esatto però lo puoi fare capito e lo puoi prendere puoi fare una foto simile senza che nessuno ti paghi per farla per poi promuoverti a brand non so fai finta io faccio questa foto qua identica chiunque la può fare e poi dopo la invio ad altri brand no questo è quello che so fare vi piacerebbe magari se facessi un lavoro per voi così capito ci ci sono tanti modi eh dondo una domanda per te in chat non vi dà fastidio i piedi appena tagliati no a me no a me no perché tanto il mio sguardo il mio sguardo mi va tutto proprio diciamo in quella porzione qua che poi è leggermente anche storta se vogliamo proprio dirla sì poi io sullo storto a me non dà fastidio no neanche a me cioè dipende 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 dalla foto sì se la foto è abbastanza forte da reggersi in piedi in piedi eh se è storta non mi dà fastidio secondo me quando andiamo a vedere storta non storta e queste cose qua è perché la foto fa cagare e dobbiamo comunque andare a cercare qualcosa che si può migliorare le uniche cose che si possono migliorare è il taglio e quindi crop e ci sono situazioni dove tagliare gli arti dà fastidio ci sono assolutamente situazioni di quel tipo lì anzi meno ne tagli in certi contesti meglio è quello non ci piove ci sono contesti secondo me in quel caso qua non mi dà fastidio perché anzi forse mi dà anche più il senso di movimento no perché vedo i piedi della ragazza dietro poi vedo i piedi di loro davanti e proprio mi dà il senso che stanno veramente camminando non stanno fingendo cioè non so mi dà un po' quell'impressione qua quindi non tolto che come te non l'avevo minimamente notato proprio per il fatto che non mi dà fastidio oppure potrebbe dire anche il cavo che c'è per terra per dirti chi è sì esatto non è un cavo è quello che si utilizza per gonfiare le gomme perché penso che quel cerchiolino lì sia il cos'è il barometro no sì qualcosa del genere sì però è contestualizzato la location capito esatto è ovvio che se tu mi prendi non so il bosco e mi ci metti una presa dalla corrente stona cioè se mi prendi il bosco e mi metti un cavo dalla corrente stona per forza di cose dipende anche sempre il contesto in cui ci si trova in quel contesto qua secondo me è perfetto ok te vuoi aggiungere qualcos'altro a questo tipo qua di fotografie no niente volevo fare solo una piccola curiosità se ho il tempo una piccola curiosità anzi no 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 vai procedi procedi dopo che secondo me è più interessante dopo vai vai procedi con allora prima di parlare del nudo e farvi vedere quelle foto lì che non saranno foto di nudo ma saranno foto verso il nudo quindi una sfumatura del nudo che secondo me potremmo provare a vedere se twitch la regge oppure se mi chiude completamente tutto vediamo come va a finire vediamo il coraggio vi dico c'è una cosa che mi hai detto in privato per quanto riguarda il problem solving che volevo scutere ok cito la frase poi mi dici cosa ne pensi vai allora in un'intervista sempre gli hanno chiesto quali sono le qualità necessarie per un fotografo in quel caso lì per fare successo e lui ha detto vabbè l'occhio la tecnica abilità sociali che molte persone tendono a scordare se la scordano a casa senso degli affari altra cosa che i fotografi si scordano empatia e problem solving questi sono secondo lui gli elementi tardine per fare successo in fotografia secondo me c'è una grande discrepanza tra quello che è il vero problem solving ok e quello che è il uso quello che ho perché ho solo quello e mi invento qualcosa sul momento perché non posso fare altrimenti e quindi vedo cosa riesco a tirare fuori all'ultimo nascosto anche come mi ispiro sul momento ok perché il problem solving che cos'è tu hai una meta e dici ok io sto andando verso quella meta cade un albero sulla strada sei in macchina dici cosa devo fare prendo un'altra strada sì ma la meta è cambiata no questo per me è problem solving tu hai risolto una questione che ti si mette davanti per raggiungere la stessa meta mentre quello che fanno tanti fotografi mascherato come problem solving è il fare il ho una meta forrei tanto andarci mi cade un albero sulla strada vabbè facciamo un picnic qua vicino va là ok capito ed è una una differenza di comportamento che fa tutta la differenza perché la meta non era quella che ti sei prefissata e e cambia proprio il livello di secondo me di comportamento di gestione proprio di quello che è il il successo fotografico ovvero ottenere quello che ti sei prefissato e quindi tu pensi in verità di dire ah ok fa lo stesso ci divertiamo lo stesso perché tanto facciamo un picnic qua però in verità quello che stai dicendo è quella meta che mi ero prefissato non è che mi importa così tanto e non sono disposto a ad avere del problema anzi non sono neanche capace di risolvere questa questione per arrivarci non che non è capace perché sono tutti capaci di risolvere i problemi non ha voglia determinazione di risolverlo sono un po' in disaccordo secondo me certa gente non è proprio capace lo maschera come come poca voglia però il fatto di non essere capace è molto più pesa cioè se tu dici a una persona che non è capace di risolvere quel problema lei magari è come quando dici a una persona premessa in un determinato contesto sapendo quello che voleva trasmettere sapendo tutto quello che c'era a sapere dice dici secondo me nella foto c'è questo elemento di troppo che avresti dovuto spostare durante lo shooting e tu ti pare il culo dicendo eh ma io la volevo così in verità è una mancanza tua che tu vai a nascondere con con qualcos'altro e secondo me succede anche nel problem solving che la gente non è capace per non ammetterlo dice no ma arrivo lì e vedo poi cosa fare arrivo lì e mi lascia ispirare non lo so vecchio però cerco di fare bla 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 ed è secondo me quello che separerà fino alla fine fino a che non verrà risolto queste persone questi fotografi da quello che è la crescita che loro si prefissa sì sì no su questo concordo sì ci sta sì assolutamente vorrei sapere anche da voi in live cosa ne pensate se trovate questo tipo di ragionamento un ragionamento che fila e se l'ho contestualizzato bene oppure se non è sempre così le sto dicendo una fesseria assurda comunque fob dice un po' mi spiace che le live culturali tirino poca gente in verità 25 spettatori in live per me vanno alla grande per questo tipo di live sì io poi sono cresciuto io mi ricordo sempre andavo a sentire un sacco di concerti rap e seguivo un gruppo rap non so chi li conosce sono i Colle del Fomento e loro fanno sempre 2000-3000 persone sempre 1000 persone minimo e a un concerto che non fu pubblicato per nulla pubblicizzato per nulla si ritrovarono con 20 persone e basandoci su un altro gruppo musicale di cui non voglio fare il nome che dato che non avevano raggiunto un determinato numero di partecipanti aveva deciso di non fare il concerto e quella volta là io suonavo e li aprì aprì loro feci live prima di loro e gli chiesi ma non vi scoccia che ci sono solo 20 persone quando siete abituati con un tot di persone e loro mi hanno risposto fin quando c'è anche solo una sola persona bisogna dare il 100% e hanno fatto uno dei concerti con 20 persone più belli che ho mai visto e ne avrò visti 20-25 minimo questo è un grande motto di vita no ma poi cazzo state dicendo un sacco di cose interessantissime eh ogni tanto esco con delle perle poi tocca a voi dire se sono perle vere o o ditemi incontrare in chat lo accetto lo accetto volentieri perché mi piace ragionare su queste cose quando c'è anche altra gente magari porteremo una live con anche altri del gruppo Patreon per per poterne discutere è difficile un po' portarle live con con varia gente però ci si prova anche perché la gente è un po' è un po' timida perché già in due c'è questa responsabilità di portare avanti la live in più gente magari c'è questa timidezza dai vai avanti tu vai avanti tu e allora volevi dire qualcosa sul nudo di ciao stavo dicendo di Lindbergh ormai ce l'ho in testa ce l'ho in testa più della no stavo dicendo un'altra cosa della mia ragazza che non c'ho più prova niente allora aspetta vediamo se ci va ok chat più ospite non rischiare non rischi non rischi che già abbiamo rischiato non rischi troppo adesso rischieremo un po' e vediamo se Twitch mi banna la live oppure me la lascia nel caso me la banni sapete che comunque rifarò il canale e sarò Ned Rodriguez 2 ok cos'è Nightbot cos'è Nightbot Nightbot è quello che mi modera lo spam quando la gente scrive troppo stanno mandando simboli strani satancio vai metti la webcam per censurare vabbè no in queste foto non dovrebbe esserci niente di troppo se c'è qualcuna di troppo passo velocemente tecnicamente qui no comunque a livello di posa e a livello di espressione allora lasciate da parte adesso per queste foto qui il fatto che siano persone famose perché nella maggior parte delle volte sono persone famose però mi piace molto questo aspetto alto ed elegante della donna che lui fa risaltare nelle sue foto con questo tipo di bianco e nero qua quindi possiamo vedere c'è Adriana Lima c'è Monica Bellucci c'è lei non mi ricordo chi fosse questa anche io non so chi sia però c'è sempre questa visione alta soft alcuni diranno non volgare ma sul volgare non volgare io non entro in merito perché si tratta poi della della linea di ognuno cioè ognuno traccia una riga dove dice dopo di questo per me è tutto volgare prima di questo è tutto è tutto lecito ok aspetto che ci metto ci metto un po' più grande che Skype continua a ridimensionare sta sta roba poi proverò a modificare e secondo me c'è tanto di questo qui che è stato portato anche a livello del ritratto e c'è tanto di questo qui che è stato portato anche a livello delle foto cinematografiche che hai fatto vedere ok questa luce dietro l'uso del bianco e nero il contrasto non per niente vi dicevo che è proprio uno degli unici e dei pochi fotografi sensuali che seguo che fa questo tipo di cose perché non trovo altro tipo di fotografia così presente sui social oggi e quindi ho dovuto cercarlo in in un libro poi c'era un'altra foto che mi era venuto in mente qualcosa da dire perché l'atteggiamento è sempre sensuale ma non è mai cioè è sempre contestualizzato in una specie di vulnerabilità che è un'altra citazione che mi avevi detto tu esatto se riesci a ripeterla sei era allora lui aveva detto scattare foto sensuali di una bella donna è insignificante ma l'ha detto in senso è troppo facile il punto è riuscire ad abbinare la sensualità alla loro forza ma anche alla loro vulnerabilità insicurezza e i loro conflitti interiori e secondo me ci riesce abbastanza bene in quelle in quelle in quelle fotografie qua in queste qui che mi hai messo tipo questa è l'esempio della vulnerabilità non che sia debole ma fragile in un certo senso vulnerabile vuol dire debole sul dizionario ma la vulnerabilità è anche un pregio in certi contesti comunque esatto e invece nella prima foto o anche questa che passo velocemente ma anche nella prima foto c'è una forza che è quella del lo sto facendo apposta sto facendo questa posa mi sto facendo sensuale e sono fiera di farlo c'erano altre foto che volevo far vedere che avevano lo stesso sguardo di quello che hai fatto vedere tu con con la la sigaretta che penso che era qua in cinematografiche questo quindi se voi andate a prendere questo magari questo sguardo qui è andato a riportarlo col nudo oppure questo qui con la donna nuda sarebbe praticamente un suo nudo e qui lui dimostra la forza o cioè la spavalderia magari di questa donna e aggiungo una cosa in più che vedrai sul libro ma l'hai visto in alcune foto però l'hai visto in bianco e nero e forse non ti ha dato così tanto fastidio lui ha scattato anche Adriana Lima con i tacchi in un posto abbandonato sì è vero eppure eppure mi sembrava ben ben lontano dal trash adesso sto vedendo se lo trovo qua dal libro per vedere se riesco a farlo vedere è vero però vedete non so se riesco a far vedere ma lo vedrete in piccolo questa foto qui ok è la questa è Adriana Lima è nello stesso contesto della foto di prima dove lei era sensuale però erano questa qui è solo il ritratto per dire che anche secondo me è un altro un'altra differenza dei fotografi di oggi noi cioè anche io ovvero che non è il genere fotografico a essere in funzione del mood del set dell'idea ma è l'idea che è confinata dentro a questo cazzo di genere fotografico voglio fare nudo 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 punto ho finito il set finito voglio fare un ritratto 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 punto ho finito il set di ritratto finito ed è un'altra cosa che possiamo notare da questa foto qui ma anche quella prima di sempre di adriana dove ha lo stesso set e troviamo un bel ritratto e un bel sensuale per poi finire magari con del nude che è un ottimo storytelling dal mio punto di vista concordo è comunque sempre legato da una linea è vero che è un po' lo stile di una persona anche se cambi genere ci deve comunque più o meno essere una linea un fil rouge una linea conduttore ci deve sempre essere che dimostri che la foto sia tua più che altro cioè se io vedo questa beh magari già questa con due persone ma fai quella di prima con la sigaretta se tu vedi quella io la ricollego subito a lui anche se vedo una sua foto di nudo cioè dipenso subito è fatta dallo stesso fotografo e questa è una cosa molto importante per farsi contraddistinguere comunque nel marasma odierno dico perché oggi tutti fotografano sì allora secondo me siamo tutti un po' abitudinari da un certo punto di vista ma non è l'abitudine può essere anche confusa per stile ok però l'abitudine condivide con lo stile il fatto che la parte ricorrente è una parte che ti piace ti piace il piccante magari ci sono vari cibi in cui tu aggiungi il piccante perché ti piace e dici ah ok sto mangiando questo cibo hai del peperoncino hai qualcosa per renderlo piccante perché quell'aspetto lo puoi aggiungere al cibo in modo che sia più verso quello che piace a te ok esatto ti scavo marchi di fabbrica esatto quello che ti piace questo qui puoi traslarlo anche sulla fotografia ma è quando inizi a dire a cambiare troppo e a dire ah ok mangio questo piatto sì mi piace piccante oggi domani domani dici no dai piccante no ma non per qualche altro problema perché non lo so non è che mi piace così tanto non è non è quello che quella voglia hai presente quando arrivi in un post e dici cosa prendi ah io vado vado il solito che mi piace una bomba capito quello è un un'abitudine ricorrente un un piacere ricorrente che secondo me si è traslato sulla fotografia a livello di dettagli qualcosa che vi piace sempre riproporre in non allo stesso esatto non allo stesso modo ma in modi diversi esatto lì andete a creare uno stile e una coerenza secondo me perché tu vai a prendere il bianco e nero perché in questo caso non è mai diverso è sempre costante e coerente cioè e se cambia cambia così poco che non non dici che cambia discosta un pochino perché ogni foto non può avere tutto uguale però è sempre quello esatto poi il livello dello sguardo il livello della posa secondo me fa tutto parte di questo discorso anche l'uso dell'ottica cioè in senso dell'inquadratura più nello specifico non è detto che per forza tipo so che non è quello che intendevi ma hai fatto un esempio un pochino più e mi parte google mi parte qua mi parte di tutto pure google mi parte è molto più facile se uno fa solo bianco e nero solo colori poi no rindirizzarlo a una determinata un'immagine se fa solo un modo è molto più facile è palese però è possibile anche se fai sia bianco e nero che colori è molto possibile dipende è un pochino più difficile perché ovviamente se fai solo monocromatico colori sei molto più catalogato in due cose però è fattibilissimo il punto è che oggi è più facile essere coerente perché usi gli stessi colori o usi solo il bianco e nero e quindi quando ti ritrovi a cambiare quello che rimane nella tua fotografia già non è più coerente e quindi dopo un po' non ti viene la voglia di cambiare cioè dopo un po' cioè dopo un po' anche anni che fai sempre la stessa cosa no no ci sta ci sta perfettamente ma il punto è che finché il tuo stile è dettato solo dai colori e dal bianco e nero e non dal atteggiamento del soggetto tipologia di contesto o di posa quando cambierai dal bianco e nero ai colori perderai il tuo stile tra virgolette se tu fai sempre un teal and orange a caso e lo fai sempre sempre il giorno in cui farai il bianco e nero e non puoi e il tuo stile è solo teal and orange quando farai il bianco e nero non starai togliendo l'unica cosa che fa delle tue foto foto nel tuo stile capito ed ecco perché secondo me c'è questa discrepanza se tu invece il tuo stile lo componi non solo dalla palette cromatica non solo perché può essere ma anche di elementi dentro la scena quindi vai oltre a quello che è la patina sulla foto secondo me ti rimane molto sì sì no sono tutti elementi importanti sono tutti elementi fondamentali alla fine io ho allargato la webcam per vedere se riesco a far vedere una foto tipo questi sono i se non crash alla live questo è tipo un nudo di no non si vede niente non si vede niente di particolare oppure vediamo se ne trovo un altro che così riesco a far vedere scusate ragazzi ma è l'unico è l'unico modo perché sennò quello lì è fenomenale comunque la foto lì mi piace un casino bellissimo vediamo se riesco a coprire tipo questa ok della tipa questo è come dicevamo prima è tipo dentro un bar adesso lo metto a caso è dentro un bar almeno sembra un bar ma lo sguardo è uno sguardo molto che dimostra a forza come diceva prima il dondo il dondo e quindi queste sono e poi rivediamo le robe che ripropongono adesso su instagram come se avessero scoperto l'acqua calda che invece è presente nelle foto di anche quarantenni come diciamo noi e cinquantenni ah ecco quello dello specchio che dicevi prima che lo fanno anzi ecco questa doppia pagina qua è il riassunto di molte cliché su instagram che vengono definiti brutti che vengono da alcuni definiti idee brutte sì ma non è che sono idee brutte sono realizzazioni brutte esattamente è quello è quella la differenza ecco e quindi la gente poi le traspone sulle proprie ma che non ha scoperto adesso sì no 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 certo gli associati mi sembrano distanti dalla fotocamera non distanza metrica ma come mood e questo almeno per me rappresenta il suo modo di scattare molto molto interessante è perché lui spazia tanto esatto perché per dire se guardi le foto di Emma Watson prima lì il soggetto non è distante dalla telecamera a livello di mood qua che hai questo non è non è distante però quando vai sul nudo sembra che lui faccia di ti ci passa indietro passa indietro e osservi ma penso che proprio lì entri in gioco la sua più che nei ritratti semplici come quello lì che appena ha fatto vedere o quelli di Emma Watson credo che poi lui su certe cose vada molto più sul cinematografico cioè nei film non è che gli attori guardano in camera no capito è un po' lo stesso discorso è come se lui fosse il regista della scena che sta facendo anche in questa qua con la sigaretta è lo stesso discorso quindi diciamo che più che una distanza perché magari non è buono a rapportarsi tolto che lui ha detto che non ha mai stretto legami con nessuna dei suoi soggetti cosa molto particolare questa ok che non sente nessuno tutta una serie di cose quindi molto particolare come cosa ok e qui diciamo che in quei lavori qua tende molto a essere per me un regista estemporaneo alla scena e solo a indirizzare le persone nel film che lui vuole rappresentare ci sta ci sta ci sta sì quella cosa mi ha spiazzato che che non non ha stretto legami con nessuno e non sente nessuno quella cosa lì mi ha un po' lasciato così sì infatti pensandoci adesso è un po' così anche perché se hai la possibilità di stringere amicizie con gente famosa non vedo perché no però se contribuisce al pro della sua fotografia ovvero al quel punto di vista lì cioè se è un un punto in più e non un punto in meno assolutamente benvenuto anche questo tipo di comportamento sì sì non che sia antipatia semplicemente tu fai il lavoro perché devi fare il lavoro e poi e poi basta ma anche tra noi è così noi facciamo tanta amicizia alcuni ci convengono altre sono sì poi non sono amicizie cioè si scatta ok ma non è che senti per la persona per il resto della vita solo perché hai scattato un'involta io parlo per me poi magari probabilmente anche per te molte delle persone che io ho fotografato le sento non dico quotidianamente no però settimanalmente come stai così di qui o che rispondono alle storie poi parli un pochino così su quello a me piace comunque no stringere relazione contatti secondo me ci sta ci sta poi ognuno lavora a suo modo questo è ci sta benissimo che io non voglio relazioni con con le persone con cui lavoro fuori dal lavoro ci mancherebbe altro assolutamente mi sembra strano perché poi vedo l'inver che quando vede le modelli si baciano in bocca cioè come manco fossero sposati e poi dico vabbè quello lì è un po' vecchio marpione quello lì però è guardato troppo rocco vecchio marpione però ci sta ci sta modi diversi lavorare ok raga siamo giunti alla fine della live ringrazio Luca per essere stato in live con noi però prima di andare via vi chiedo un feedback in live sulla tipologia di live se vi è piaciuta se è stata in qualche modo d'aiuto per qualsiasi cosa un dubbio anche solo per parlare compagnia se vi ha fatto capire qualcosa di più se vi piacciono live di questo tipo io adesso termino lo streaming vedo l'ora di scaricarlo per vedere se Luca riesce a metterlo sul suo canale questo e quindi fateci sapere grazie a tutti per essere stati qua esatto grazie grazie veramente a tutti sarà interessante sono un botto molto interessante ok ok magari porteremo qualche altro fotografo più avanti non sarà niente a cadenza quindi quando se la sente Luca di proporre qualche fotografo che che ha un minimo di su cui c'è un minimo da discutere sì principalmente anche i giorni d'oggi esatto se no potete iscrivervi al canale di Luca su youtube quindi Luca Dondossola su youtube grazie ragazzi noi ci vediamo alla prossima live ciao a tutti ragazzi grazie ciao ciao grazie a tutti